Sicuramente l'emergenza pandemica è una novità anche per i comuni, bisogna organizzarsi e bisogna organizzare anche lo screening di massa. Qualche difficoltà c'è stata anche a San Giovanni Teatino. Sindaco a che punto siamo? Intanto niente panico, si tratta di un'attività che la ASL sta coordinando in tutti i comuni. I sindaci sono chiamati a collaborare per attivare queste procedure di screening di massa. A San Giovanni Teatino sono stati forniti disponibili 4.273 tamponi da fare. Ovviamente la ASL ha predisposto tre postazioni che con la collaborazione dei volontari della protezione civile e la Croce Rossa riusciremo a soddisfare. Ma ogni postazione può fare 120 tamponi, quindi tre postazioni sono 360 tamponi al giorno, due giorni sono 720. Se dovessimo rispettare 2.400 tamponi è ovvio che non riusciremo a farli. Non li disciplineremo in ordine alfabetico, quindi sabato dalla A alla L, domenica dalla M alla Z, ma martedì nel riunione con il prefetto chiederò di trattenere i tamponi e di continuare lo screening in un'altra località, che è quella dell'ex circolo degli anziani, per dare la possibilità a chi non l'ha potuto fare sabato e domenica, di continuare a fare il tampone per dare questi dati che comunque servono, prima di ogni cosa, per la prevenzione e quindi per mettere in sicurezza i miei cittadini e successivamente entrare anche nelle scuole, dove già i tamponi si stanno facendo, perché le farmacie sono state dotate da parte della Regione Abruzzi di test veloci come quelli che faremo noi. I positivi verranno direttamente portati ai drive-in con le procedure interne e quindi dico ai cittadini, se potete scaricate il prospetto informato da internet e vedremo come fare, o altrimenti ve li faremo compilare dai volontari della protezione civile della Croce Rossa e portate il tesserino sanitario. C'è bisogno di prenotarsi? No, l'accesso è libero proprio perché non è prevista la prenotazione. Dunque sabato e domenica via lo screening di massa nella palestra della scuola di Largo Voitiva. Ma nella riunione di oggi è stato affrontato anche un altro tema, i malintenzionati del vaccino, persone che vanno in giro spacciandosi per operatori della Croce Rossa e promettendo aiuto, in cambio di pochi soldi, per prenotare la vaccinazione sul portale della Regione. In realtà ad offrire aiuto a chi non è pratico di internet è sì la Croce Rossa, ma quella vera è gratis. Ho avuto delle segnalazioni succhieti di persone che addirittura con pettorina di Croce Rossa circolavano per le strade chiedendo, dando, offrendo supporto per la prenotazione dietro un compenso, un compenso che si aggirava intorno ai 10-15 euro. Quindi chiedo alla popolazione di stare attenti. Croce Rossa fa un'attività che è rivolta alla popolazione e che è assolutamente gratuita.